ciao ragazzi ciao a tutti e bentornati oggi facciamo insieme delle buonissime ciambelline a forma di fiorellino con la marmellata e i baci di dama con la cioccolata queste cose che vedrete oggi e tante altre cose tra cui le orillette di cui vi lascio il video qua nel link nella e col pallino dicevo tutte queste cose ci serviranno perché stiamo organizzando noi cartuleria mafalda insieme ad altre attività una bellissima speriamo riuscitissima festa di carnevale dei bambini l'abbiamo chiamata così si terrà qua davanti al nostro negozio sono invitati praticamente tutti i bambini del paese e anche anche di fuori insomma è una manifestazione che abbiamo voluto fare perché il carnevale nel nostro paese sta un tantino morendo purtroppo ci sono delle situazioni che impediscono ai ragazzi di di fare materialmente i carri perché non ci sono posti a disposizione e quindi il carnevale con le loro sfilate e quindi il carnevale con le sue sfilate sta un tantino morendo questa cosa a noi dispiace tantissimo perché io nella mia fanciullezza e nella mia adolescenza ho vissuto un carnevale stupendo quello degli anni 90 che qua nel mio paese era una roba fantastica cioè venti carri che sfilavano tanta gente che si mascherava dai bambini più piccoli fino agli ultra settantenni era un carnevale molto riuscito poi piano piano questa cosa è andata a scemare e a me personalmente dispiace tanto 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 quindi quest'anno abbiamo deciso di organizzare questa festa per i bambini speriamo che venga tanta gente speriamo che si divertano e speriamo di poterla rifare anche negli anni a venire insomma niente adesso la smetto di cianciare come il mio solito e andiamo a preparare le ciambelline e Grazie a tutti. 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 Io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, qua sotto dove c'è la strisciolina rossa con scritto iscriviti e attivate le notifiche schiacciando sulla campanella. Io vi mando un grande bacio, ci vediamo al prossima. Ciao!